Posso tagliare? Tagliamo anche questo. Tagliamo. 8, 4, 5, 2, 2, poca tuaia. Sì, dai, dai che ci siamo, dai. Faccio quest'ultimo taglio. Porca puttana, porca tuaia, non basta. Chi l'avrebbe mai detto che a distanza di anni fosse profetica la parodia di Corrado Guzzanti? I conti di Tremonti non tornano e questa fine estate segna il suo isolamento. L'Europa aveva apprezzato la manovra d'agosto, anche se in attesa dei dettagli. Ma la manovra cambia, i dettagli pure, l'Europa si sta spazientendo. I contatti fra lo staff del commissario Oli Rene e di tecnici del Ministero di Via 20 Settembre sono costanti, ma alla domanda a che punto siete, Roma può solo rispondere, ci stiamo lavorando. Ed è un lavoro di montaggio e smontaggio, una gara che inventa la tassa più esotica, commenta Emma Marcegaglia. All'opposizione la manovra non è mai piaciuta, il PDL è costretto ad accettare le richieste della Lega ed ora servono 4 miliardi e mezzo per i minor tagli agli enti locali. Per questo i conti non tornano. Potrebbero essere recuperati dall'aumento di un punto in percentuale sull'IVA, ma l'ipotesi è indigeribile per Tremonti. Il PDL, senza mezzi termini, lo chiama ad una posizione più conciliante, o si adegua o se ne va, è il giudizio meno sferzante. Daniela Santanchè pretende lo spacchettamento delle sue deleghe ed anche il mite Alfano, come riportano alcuni quotidiani, sembra aver detto stavolta se non ci sta Giulio si fa male davvero. Il ministro, sebbene isolato, non si sente sconfitto, non ha mai minimamente preso in considerazione le ipotesi di dimissioni e, dopo la telefonata con Berlusconi, in cui fa presente che il decreto della manovra porta la firma di tutti, resta convinto di essere l'unico interlocutore credibile per l'Europa e che Berlusconi non può fare a meno di lui. Oggi il vertice, Tremonti, Berlusconi e Bossi, che con i paletti messi rischia di far schiantare la manovra del ministro.